Sogna il sorpasso in seconda posizione proprio nel derby Antonio Torti mentre sul fronte opposto Ruben Dario Bolzan vuole mettersi alle spalle tutte le scorie derivate dal K.O. con il Chieti per rilanciarsi e Avezzano L'Aquila allo stadio dei Marsi di nuovo a porte quantomeno semi aperte Antonio Torti ex di turno sceglie pendenza dal primo minuto ma deve fare i conti con l'infortunio in apertura del Rapaz. Martin Blanco sostituito da Medeo Vincenzi una brutta tegola per Torti che deve rinunciare all'argentino. Meglio L'Aquila nella fase iniziale moscianese scarica per Ivan Di Federico un prodigio l'intervento di Michael Di Girolamo che si rifugia in corner. In avvio spinge L'Aquila con convinzione e trova anche il gol del vantaggio con Stefano Micicchè non chiude di Gian Felice e il sesto gol nel campionato per Micicchè il quale stacca nella classifica marcatori Spinola ma soprattutto realizza la rete dello 0-1 L'Aquila che però deve difendersi perché Alessandro Pendenza sul versante opposto si libera e si presenta tu per tu con Domingo Dalmasso che si supera e sbarra la strada all'attaccante Biancoverde intervento super di Domingo Dalmasso ma l'Aquila che cerca il raddoppio solo sfiorato con Luca Fonti schierato dal primo minuto da Ruben Dario Bolzan l'Aquila in emergenza tanti gli infortuni in attacco Pellecchia Micicchè e Di Federico prima del duplice fischio dalla distanza Rosano palla che si spegne sul fondo non di molto e primo tempo in archivio ma nella ripresa l'Avezzano entra in campo con maggiore determinazione e trova un euro gol con Braghini con il Mancino appena entrato premiata la scelta di Torti Braghini che aveva rilevato Pelino 1-1 Avezzano e la tribuna dello Stadio dei Marsi può esultare Avezzano che ora ci crede pendenza fermato in fuorigioco tutto fermo nulla di fatto per i marsicani deciso Antonio Savino di Torre Annunziata entra Maisto ed è subito protagonista ma anche per lui scatta la trappola del fuorigioco quindi nel finale di partita la combinazione che coinvolge Fonti e Crass con lo stesso Maisto che scheggia l'incrocio dei pali il lampo dell'Aquila a un passo dal secondo vantaggio ma può bastare così L'Avezzano fallisce il sorpasso in seconda posizione ma buona la prestazione dei biancoverdi l'Aquila a meno 7 dal Chieti che domenica all'Angelini potrebbe festeggiare la promozione in D proprio con l'Avezzano Il derby dei Marsi tra Avezzano e l'Aquila termina 1-1